Donne che lavorano, storie di successi, difficoltà e traguardi. Un premio dedicato alle donne e alle difficoltà che vivono in una società fortemente indebolita nell'aspetto economico e dunque occupazionale. Il premio si chiama Donne d'Abruzzo e vuole significare questo, che delle donne che si sono realizzate nella loro vita quotidiana, che può essere la politica piuttosto che magari l'impresa, per un giorno ricevono sì un premio ma si, tra virgolette, si concedono ad aiutare e a fare in modo che il messaggio dei più deboli diventi più attuale. Tra le donne premiate, come ha spiegato il presidente dell'associazione, spiccano anche rappresentanti della politica. Un ambito dove ancora si contano pochissime donne, ancora meno con ruoli di spicco. Stefania Pezzopane racconta la sua storia tra famiglia, lotte e successi. Dice di sé sono nata in una famiglia di destra. La mia prima lotta fu quella di dichiararmi di sinistra. Ho combattuto da ragazzina perché volevo fare politica a sinistra e la mia famiglia non era di sinistra. Ho combattuto per la mia autonomia personale, quando volevo andare a studiare fuori e la mia famiglia aveva difficoltà. Ho combattuto poi in politica sempre perché ero giovane, ero piccola ed ero donna, e gli altri erano maschi, grossi e già magari di successo. E quindi ho dovuto fare sempre tanta tanta fatica. Ho combattuto quando c'è stato il terremoto all'Aquila che mi ha sconvolto la vita. Ho combattuto per essere madre, e madre presente e affettuosa, mentre ero purtroppo e per fortuna impegnatissima H24 nelle iniziative politiche e istituzionali. E ho sempre combattuto per le donne, per i diritti delle donne, che ancora oggi in parte sono sacrificate e non all'altezza della capacità delle donne. Quindi questo riconoscimento ovviamente mi fa felice e lo dedico a tutte le donne d'Abruzzo, perché ognuna fa una fatica quotidiana.